Siamo con il vice quest'ora giunto del commissariato di Augusta, dottoressa Stefania Marletta. Oggi la polizia di Stato di Augusta ha portato a termine una brillante operazione assicurando alla giustizia un estortore. Vuole parlarci di questa operazione? Sì, abbiamo tratto in arresto Formica Vincenzo per tentata estorsione ai danni di un titolare di un esercizio pubblico sito nel centro di Augusta. L'estortore aveva più volte tentato di ricevere una dazione di denaro periodica dal titolare, il quale ha rifiutato e a seguito sia di servizi tecnici che di attività tradizionale siamo riusciti a consegnare informativa con dei riscontri all'autorità giudiziaria siracusana con attività coordinata da loro, si è arrivati all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP. Il fenomeno estortivo ad Augusta è sottostimato? La gente denuncia oppure questo è un caso isolato? Guardi, io ritengo che vi siano sicuramente degli altri titolari di esercizi commerciali o di esercizi pubblici che sicuramente subiscono le pressioni dei gruppi criminali ma non abbiamo contezza al momento di ulteriori reati. La polizia comunque sta monitorando la situazione ovviamente, Augusta lei che da poco si è insediata, che città è? È una città complessa per certi aspetti oppure si aspettava qualcosa di diverso da questa piazza? Sicuramente è una città complessa, sappiamo benissimo qual è la realtà augustana, siamo in presenza di un comune sciolto per presunte infiltrazioni mafiose Sicuramente sono presenti dei reati di microcriminalità che stiamo combattendo, sicuramente dei fenomeni estorsivi e questo è il primo che viene a galla in così pochi mesi L'ultimo arresto dei quattro per la selezione delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio tutti e quattro con precedenti di polizia è stata una risposta alla cittadinanza, avevano commesso più di un centinaio di furti come ben sappiamo Invitiamo comunque la cittadinanza a rivolgersi e ad avere fiducia nelle forze dell'ordine Siamo qui a disposizione a qualsiasi orario del giorno